Cavalli nei nastri per la partenza della settima corsa, premio Gattopardo, Nettuno, Siria, Niobe, Demura, Odilax, Innocenzo, Duke, Off-Cloud, Etnever, Gara, Orion, Nira, One al primo nastro, Oscar, Almare, Orly al secondo, segnale convalidato con Niobe, Demura in vantaggio nei confronti di Innocenzo, Duke, quindi lungo la corda, Nettuno, Siria al convicino, Odilax, ancora Orion a precedere, Oscar, Almare, veloce dal secondo nastro, insiste all'esterno Innocenzo, Duke, va su Niobe, Demura dopo 300 metri di gara, cerca di ottenere strada dall'avversaria, operazione che non riesce perché Niobe, Demura decide di correre al comando, respinge Innocenzo, Duke, che retrocede al lato di Odilax, quest'ultimo sistemato, sistemata in terza posizione nella scia di Nettuno, Siria, poi ancora Orion, Oscar, Almarco nell'esterno Nira, One, Niobe, Demura che dopo aver respinto la puntata di Innocenzo, Duke cerca naturalmente di ridurre l'andatura, e andiamo a vedere che il mezzo miglio iniziale è nell'ordine dell'1,3,5, si viaggia sul piede dell'1,19, per Niobe, Demura nei confronti Nettuno, Siria, l'Innocenzo, Duke, poi un'altra serie di pariglie, Odilax con al lato Orion, Oscar, Almarco nell'esterno Nira, One, ancora, Nevergar con al lato Rover of Cloudret, fanalino di coda, il penalizzato Orlì, gruppo comunque molto compatto all'attacco della penultima curva, Ancora in rallentamento Niobe, Demura, tanto che i primi 1200 metri sono in 1,36,5, con Innocenzo, Duke che si limita ad accompagnare la battistrada, Vediamo se ora c'è accelerazione negli ultimi 200 metri, si, 14,4 questa frazione, con Niobe, Demura che svertisce l'andatura, avendo sempre al Sarki, Innocenzo, Duke, poi Nettuno, Siria, l'Orion, quindi Odilax e Nira, One, situazione tattica che non muta, altri 200 metri molto veloci, un penultimo quarto davvero sostenuto da parte di Niobe, Demura, al cui esterno è tenacissimo Innocenzo, Duke dalla partenza, poi Nettuno, Siria, l'Orion, siamo all'ingresso e retta d'arrivo con Niobe, Demura che cerca di svincolarsi da Innocenzo, Duke, poi lungo la corda c'è Nettuno, Siria, più all'interno di Laks, allargo Orion, ancora gli altri, è in vantaggio Niobe, Demura, nei confronti Nettuno, Siria, l'Orion all'esterno, allargo di tutti Rover of Cloud, vince facile Niobe, Demura, su Orion, lungo la corda potrebbe essere terzo Nettuno, Siria, per 2-7-1, arrivo ufficioso di questa settima corsa, con il mezzo miglio finale in 59 per Niobe, Demura e Giustino Panico, una media di 1-17-4 sul doppio chilometro, ufficiosa naturalmente, ma vittoria netta per Niobe, Demura, nei confronti di Orion, numero 7, mentre lungo la corda, probabilmente Nettuno, Siria, l'alterzo, davanti a Rover of Cloudlet e Nira 1, e dunque 2-7-1, l'arrivo ufficioso.